Da Barletta gli auguri per le festività natalizie del sindaco Pasquale Cascella. Auguri sentiti alla nostra comunità che non ha vissuto un anno facile, sono momenti di difficoltà che debbono essere ancora affrontati, però questi debbono essere giorni di serenità, giorni in cui ci si ritrova in famiglia, giorni in cui si ritrova quello spirito di comunità della famiglia e che io spero possa essere anche la comunità più grande. Questa serenità, riflessione, capacità di guardare al futuro con speranza ma anche con la partecipazione del contributo che ciascuno può dare alla ripresa, allo sviluppo sostenibile della nostra città, alla sua crescita civile, al recupero del suo ruolo, del suo ruolo nel Mezzogiorno, del suo ruolo nella storia del Paese, del suo ruolo in questo momento di ripresa della crescita. Abbiamo bisogno di pensare alle potenzialità oltre che ai problemi, queste potenzialità debbono essere coltivate. Se ci diamo una mano reciprocamente, se ci sosteniamo reciprocamente in questa sfida, in questo sforzo, sicuramente potremo farcela. Da Parletta per news24.city Floriana Tolver, auguri!